Irite! Mando una mela a Eolo! Con sto vento tutto l'occhio rossato! Con l'allergia ai pallini non ci vedo un pixel! Mamma! L'occhio secco! Che fastidio! Ecco Eufralia a occhi secchi! Da oggi puoi provare Eufralia a gocce oculari con formule specifiche per i tuoi occhi, in caso di sintomi allergici, rossore... E secchezza! Eufralia a gocce oculari, una nuova storia per i tuoi occhi!